E' Natale, un sorriso in più per Giancarlo, è un bellissimo regalo che voi potete fare anche dopo Natale, il 27, è Natale e tutti siamo molto più buoni. Tanti auguri, vi aspettiamo il 27 dicembre al Palazzetto dello Sport, uno spettacolo veloce e veloce. Buon Natale da Poligno a...